L'acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro battesimo, allora Dio ci ha trasformati e riempiti della sua grazia. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, commentando il Vangelo della terza domenica di Quaresima e il dialogo di Gesù con la Samaritana, il Pontefice ha invitato tutti a riconoscere questo grande dono, troppo spesso dimenticato o ridotto a un mero dato anagrafico, mentre si va in cerca di pozzi, le cui acque non ci dissetano. Questo tempo di Quaresima è l'occasione buona per avvicinarci a Lui, incontrarlo nella preghiera, in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui. È l'occasione buona per vedere il suo volto anche nel volto di un fratello o di una sorella sofferente. In questo modo possiamo rinnovare in noi la grazia del Battessimo, dissetarci alla fonte della parola di Dio e del suo Santo Spirito, e così scoprire anche la gioia di diventare artefici di riconciliazione, strumenti di pace nella vita quotidiana. Dopo la preghiera mariana, il Pontefice ha espresso la propria vicinanza alla cara popolazione del Perù, duramente colpita da devastanti alluvioni. E gioia per la beatificazione, ieri a Bolzano di Yosef Mayr Nusser, padre di famiglia ed esponente dell'azione cattolica, morto martire perché si rifiutò di aderire al nazismo per fedeltà al Vangelo. Proprio per la sua grande elevatura morale e spirituale lo ha indicato come modello per i fedeli laici, specialmente per i papà ricordati con grande affetto, tanto da dedicare loro un applauso, anche se la festa liturgica di San Giuseppe, loro patrono, quest'anno viene celebrata il 20 marzo. Grazie a tutti.